C'è il Papa, Castel Gandolfo, Papa Paolo Giovanni II che deve tornare immediatamente in Vaticano. Chiama Ambrogio, Ambrogio dice che la macchina a fare il tagliando devono chiamare un taxi. Arriva il taxista, maronna sua santità, prego si accomodi, si accomodi. Vanno, il Papa a fretta, il taxista va ad agio, il Papa sollecita il taxista, il taxista qui, sua santità, qua. Si superiamo i limiti, ci stanno molte multe, il Papa dice non si preoccupi fratello, Papa paga multa, tu corri più veloce. Allora il taxista aumenta un po', ma il Papa è sempre un po' in frenesia, quindi dice mi raccomando devi andare più veloce, più veloce. Finché non decidono, insomma, il Papa prende il timone. Il Papa passa davanti, guida al terzo paesino, macchina dei carabinieri, paletta, arriva l'appuntato, guarda dentro e vede il Papa. Torna la macchina, marescià, marescià, ci è fermata una persona importantissima, che faccio? Ci do una multa. Il marescià lo dice, tu sarà mai un politico? Gli dia la multa, faccia vedere che noi carabinieri non guardiamo in faccia nessuno. No, marescià, ma quale politico? Questo è molto più importante. Cioè, più importante di un politico, chi è? Il sindaco, un senatore? Gli dia la multa, faccia vedere che noi carabinieri siamo integermi. No, marescià, quale politico? Quale sindaco? Molto più importante. Allora, marescià lo dice, senza, non mi faccia parte del tempo, chi è che ha fermato? Allora, appuntata, chi ha fermato? Guardi, marescià, chi ha fermato non lo so, ma per autista c'ha il Papa. Questa è bella, te l'ho detto, questa è bella.